Molti di voi conosceranno già questo nome e avranno visto questo logo. Noi l'abbiamo messo anche sulle scatole dei nostri dispositivi e quindi i nostri clienti lo hanno notato sicuramente. Ma molti di voi l'avranno visto nelle città. Castelfranco Veneto e sotto c'è scritto Città della Speranza o come in tantissimi altri comuni. Perché Città della Speranza è una fondazione che è una realtà ormai trentennale, esiste da 30 anni e si occupa di ricerca in un campo molto particolare, la ricerca emato-oncologica pediatrica. Sono passati 30 anni da quando Franco Masello per primo ha iniziato questa avventura che ha dato il via alla crescita di questa fondazione che oggi ha coinvolto enti, università e che collabora con tutto il mondo. Qui si parla di un lavoro internazionale con dei numeri veramente sprepositati. Oggi vi ho portato qui per diversi motivi. In primis per farvi vedere come noi investiamo i nostri soldi in ricerca. Sì, perché oltre alla ricerca clinica sulle nanotecnologie che riguarda altri ambiti, abbiamo deciso di sostenere un ente come la Fondazione Città della Speranza che fa un tipo di ricerca in alcune patologie su cui noi non lavoriamo ma è giusto che noi diamo un contributo anche alla ricerca in questo campo. Non solo per chi come me ha figli e spera di avere un domani nipoti ma per tutti noi dovrebbe essere importante capire come aiutare questi bambini con queste patologie che riguardano sì principalmente il bambino ma tutto quello che nasce qui è molto utile anche per l'adulto. Una vera eccellenza appunto e se volete scoprire quanti campioni vengono analizzati qui tutti i giorni, che tipo di malattie vengono studiate e la produzione scientifica che ha questo immenso ente di ricerca, seguitemi perché ne parleremo tal vivo con chi fa queste cose dalla mattina alla sera, con chi ha portato la guarigione nei bambini in alcune patologie dal 30% all'80% di probabilità e speriamo ci dia una speranza, una Città della Speranza per il futuro per il 100%. Seguitemi. Abbiamo l'onore di essere qui con la professoressa Lara Mussolin che è la responsabile per la diagnostica molecolare dei linfomi pediatrici come referente nazionale. Sì, esatto. Siamo molto incuriositi da tutto quello che state facendo e vorremmo ci raccontasse quali sono le sue responsabilità e come si svolge il vostro lavoro qui in questo reparto. Sì, presso l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza dove siamo ora, arrivano tutti i campioni di midollo, di sangue, di tessuto tumorale dei principali centri ospedalieri italiani e su questi campioni noi facciamo tutta una serie di indagini molecolari non solo per quanto riguarda i linfomi, di cui io sono particolare referente, ma anche per altre patologie come leucemie e tumori solidi. Queste analisi molecolari ci hanno consentito di capire nel tempo quali sono i pazienti che rispondono bene alla terapia, quali pazienti invece hanno un elevato rischio di recidivare. Quindi abbiamo quella che è stata negli anni precedenti a ricerca oggi si è tramutata in una diagnostica avanzata. Quindi diamo alla paziente una possibilità in più nel capire quale è il trattamento che può essere utilizzato considerata l'anomalia che noi andiamo a trovare. In realtà i test che facciamo non sono solo eseguiti alla diagnosi per aiutare il patologo a fare una diagnosi corretta ma anche durante il follow up, durante quindi la terapia e andiamo ad analizzare comunque il midollo, il sangue periferico con queste tecnologie molto sensibili perché negli anni abbiamo capito che a fronte anche di test strumentali negativi quindi il clinico fa la PET, l'attacca, la risonanza al bambino e vede che sta rispondendo bene alla terapia perché è tutto negativo. In realtà i test molecolari che noi facciamo se sono positivi proprio perché altamente sensibili quindi perché mi permettono di vedere una cellula tumorale su un milione di cellule normali ci hanno permesso di capire che questa positività è importantissima che quindi anche se c'è una positività solo molecolare in realtà il bambino ha un'elevata probabilità di recidivare quindi anche se i test strumentali sono negativi in realtà bisogna prendere in considerazione questo referto, questo esito per decidere come trattare il paziente quindi modificare la terapia o fare una terapia più aggressiva nel caso in cui questa positività persista durante la terapia. Ricordiamoci che in questi vent'anni sono stati fatti passi enormi per migliorare la cura dei bambini che si ammalano di tumori pediatrici in particolare di linfomi. Per i linfomi siamo arrivati anche a curve di sopravvivenza oggi del 90-95%, quindi risultati davvero grazie a un lavoro e sforzo a livello internazionale veramente ottimi. Restano ancora alcuni sottotipi di tumori, di linfomi che non rispondono bene alla terapia che quando vanno incontro a recidiva purtroppo non si riesce a trovare una terapia efficace per guarigli e quindi è su questo che noi oggi ci stiamo concentrando nella parte di ricerca, nel capire utilizzando tecnologia molto all'avanguardia per quei questi bambini, che caratteristiche ha il tumore in questi bambini e quindi che terapie possiamo usare in futuro per guarire anche le tipologie più aggressive. E noi grazie a voi abbiamo una speranza in più per quello che fate. A proposito di questo, proprio anche quest'anno avete fatto una nuova scoperta importante che diventerà tra poco, mi sembra, mi diceva, già tra un paio d'anni diventerà diagnostica utilizzabile, operativa. Sì, sì, il mese scorso abbiamo pubblicato un lavoro eseguito su più di 200 casi, quindi analisi fatte su più di 200 bambini che si erano ammalati di un particolare tipo di linfoma e mettendo assieme... Quindi un dato altamente significativo, perché non parliamo di 200 bambini qualsiasi No, 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 con quel particolo... 200 bambini che hanno un disturbo raro, quindi... Assolutamente, sì, con un particolare tipo di linfoma, si chiama linfoma di Barchit è un linfoma molto aggressivo, diciamo, con una proliferazione cellulare tumorale molto elevata quindi bisogna, nel momento in cui viene fatta la diagnosi, iniziare il prima possibile la terapia e abbiamo messo assieme due test molecolari distinti e l'associazione di questi due test ci ha permesso di identificare i cosiddetti pazienti veri high risk cioè pazienti che hanno davvero, noi siamo in grado di dire già la diagnosi questi bambini hanno un'elevata probabilità di recidivare se viene fatta questa terapia tradizionale standard mentre al contrario i bambini che sono negativi a questi test possiamo dire al clinico, al medico la terapia standard funziona bene, quindi tutto quello che funziona non cambiamolo perché è una terapia che è adottata da più di dieci anni e che quindi sappiamo gli effetti collaterali sappiamo come gestire, eccetera Questo tipo di test e di risposte in quanto tempo potrà avvenire nel momento che sarà disponibile nel momento della raccolta del campione? Ora stiamo, proprio in questo periodo, stiamo mettendo assieme i nostri risultati con il network europeo di cui facciamo parte quindi in totale verranno analizzati circa 700 casi perché mettiamo assieme i risultati ottenuti dal gruppo tedesco, dal gruppo francese e stiamo appunto scrivendo anche il nuovo lavoro proprio di cooperazione e stiamo disegnando un nuovo protocollo di terapia clinico che verosimilmente partirà nel 2026 perché ovviamente ora si sta disegnando la terapia da fare in base alla stratificazione dei pazienti Che due anni è un tempo brevissimo per la medicina perché la maggior parte della scoperta in medicina impiegano anche decenni per essere applicate Quindi complimenti, siete voi che siete una potenza in questo ambito quindi potete portare questo cambiamento in fretta Guardi, grazie, ma è veramente un gioco di squadra perché è importante, cioè il mio gruppo ovviamente non sono da sola ma ci sono dei giovani ragazzi che il primo nome di questo lavoro è una ragazza che appunto sta facendo il dottorato quindi è molto giovane che peraltro adesso andrà qualche mese appunto all'estero per continuare questo lavoro che abbiamo fatto con i nostri collaboratori è un lavoro di squadra fatto non solo appunto tra noi ricercatori i nostri colleghi nel resto del mondo ma anche grazie a quello che l'istituto, la fondazione ci permette di fare grazie al fatto che ci sia una raccolta fondi che ci consente quindi di pagare delle persone che lavorano su questo, di prendere reagenti, di avere la strumentazione quindi è un risultato che secondo me è grazie a tutti non solo a un gruppo specifico, è sempre il frutto dello sforzo di tanti a modo, ognuno a modo suo, insomma come può Dobbiamo essere tutti più sensibili a questi temi perché riguardano quelli che potrebbero essere i nostri figli, i nostri nipoti, le generazioni a che venire? Raramente le persone si occupano di questo tema fino a che non hanno una storia personale familiare di questo, ma questa sensibilità dobbiamo averla prima perché quando avremo noi un problema o qualcuno che conosciamo vogliamo che la soluzione ci sia già quindi è grazie a loro se questo esiste tra l'altro con un lavoro molto importante perché è bello sapere che tutti gli investimenti pubblici e privati che arrivano alla Città della Speranza diventano risultati operativi con delle potenze incredibili, qual è il numero di campioni che siete in grado di analizzare ogni mese, ogni anno? Da noi in clinica arrivano circa 6.000 campioni all'anno perché appunto essendo centro di riferimento nazionale quindi ogni giorno anche il sabato arrivano campioni di sangue di midollo da Napoli, da Catania, da Torino, da Firenze, da Roma, da Cagliari, quindi da tutti i principali centri ospedalieri italiani In questi anni abbiamo fatto anche la carica dei 101 per la speranza di cui siamo stati anche noi sostenitori e sono partiti i militari, gli atleti del corpo dei carabinieri dalle diverse città d'Italia principali da cui provengono i campioni a far arrivare la fiacola o comunque il testimone alla Città della Speranza proprio per questo simbolo di raccolta di campioni che da tutta Italia arrivano qui ma anche con tante collaborazioni anche internazionali Assolutamente sì, le collaborazioni internazionali come dicevo è assolutamente importante perché si tratta di mettere assieme tutto quello che ogni gruppo riesce a trovare fino a quel momento ha trovato per accelerare appunto la nostra mission che è quella di riuscire a curare un giorno tutti i bambini non solo a livello europeo, le collaborazioni sono anche oltreoceano perché ad esempio in particolare noi con il mio gruppo sta collaborando con la Columbia University quindi con New York con un gruppo di ricerca che è esperto di linfomi dell'adulto ma stiamo lavorando assieme proprio per identificare diciamo meglio questi determinati tipi di linfoma caratterizzare meglio la cellula tumorale noi ad esempio stiamo utilizzando adesso una tecnologia molto costosa perché giusto per dare un'idea la processazione di ciascun campione costa circa 4.000 euro e l'analisi poi della bioinformatica di questi campioni che è un processo lunghissimo i nostri bioinformatici ci hanno messo più di un anno per analizzare questa enorme mole di dati però ci ha permesso ad esempio di capire che uno dei tumori che viene considerato assolutamente il più omogeneo al mondo nel senso che quando si guarda al microscopio si vedono cellule tutte uguali e viene sempre considerato in tutti i libri di anatomia patologica così come il tumore più ok tutte le cellule sono uguali non c'è nulla diverso in realtà con questa tecnologia abbiamo visto che non è assolutamente così che ci sono cellule tumorali per capirci rosse, verdi e gialle e che hanno caratteristiche completamente diverse e quindi adesso qual è la nostra mission? cercare di capire qual è la cellula che dà la resistenza quella rossa, quella verde o quella gialla però qui ci vuole ancora un po' di anni di lavoro intenso di lavoro al bancone, di lavoro insomma in vitro come si suol dire e quindi ci vuole ancora tanto sostegno da parte di tutti alla città della speranza altro dato importante che per me è importante la produzione scientifica che avete annuale perché la produzione scientifica è in qualche modo manifestare i risultati ottenuti ma anche condividere con il mondo i risultati scientifici di modo che tutti nel mondo possano progredire nella cura e nello sviluppo di nuovi test certo, sì la pubblicazione scientifica dell'istituto è assolutamente elevata in un'analisi recente fatta dalla nostra direzione scientifica siamo risultati a essere tra i primi istituti di ricerca in Italia in termini di pubblicazione scientifica con un impact factor piuttosto elevato l'impact factor è quel numero che è associato alla rivista e che dà un'idea di quanto prestigiosa sia la rivista quindi siamo assolutamente a livelli molto elevati come istituto di ricerca e quindi come diceva giustamente lei la pubblicazione scientifica essendo un percorso piuttosto impegnativo perché comunque quando viene mandato il lavoro viene valutato da una commissione di revisori internazionali che hanno le medesime competenze a revisione alla pari significa che qualcun altro che ha le stesse competenze fa le pulce a quel lavoro se veramente è stato fatto nel modo corretto per decidere se possa essere pubblicato sulla rivista che ha fatto e poi spesso magari chiedono di fare ulteriori esperimenti di fare delle ulteriori analisi quindi passano anche parecchi mesi dal momento in cui si sottomette il lavoro a quello in cui si può brindare perché il lavoro è stato accettato ecco quindi in questi termini assolutamente la pubblicazione scientifica anzi invito chiunque ad andare all'interno del sito dell'istituto di ricerca pediatrico c'è una finestra con pubblicazioni scientifiche che potete aprire e vedere le pubblicazioni scientifiche dei vari gruppi che sono qui in istituto gli investimenti fatti per la Città della Speranza le donazioni fatte per la Città della Speranza portano risultati concreti per i bambini di tutto il mondo quindi stiamo presenti, mettiamoci una mano sulla coscienza e sul portafoglio parlare di soldi legati alla patologia non è l'argomento corretto ma la ricerca ha bisogno di essere finanziata ci servono i materiali, servono le persone che lavorino quindi anche voi come noi dovete sostenere la Città della Speranza sì purtroppo la ricerca costa tantissimo costano tantissimo le plastiche che vengono utilizzate, le provette perché hanno delle caratteristiche particolari costano tantissimo i strumenti, i reagenti quindi sì non si può fare una ricerca a basso costo perché non sarebbe una buona ricerca anche perché la cura che vogliamo poi è invece una cura efficace e parliamo sempre di bambini stiamo parlando di bambini professoressa è stato un onore, grazie del tempo grazie a voi e della visita grazie, grazie molte sono qui con Stefania Fochesato referente della Città della Speranza ma anche una responsabile della raccolta fondi ci conosciamo da un po', abbiamo fatto diversi progetti insieme e quello che mi preme chiedere a Stefania è quanto è importante che ci siano aziende e imprenditori come noi che si uniscono a donare alla Città della Speranza sicuramente negli ultimi anni ha fatto la differenza perché questa è una grande realtà che è nata per merito anche del mondo del volontariato che ci ha permesso di crescere quindi sul territorio tantissime iniziative si vedono i nostri banchetti in giro si vedono iniziative pasquali piuttosto che natalizie ma pensiamo anche a questo grande progetto nato di recente, testimonial della ricerca dove tante aziende hanno fatto gruppo e ci hanno permesso anche adesso di sostenere e far partire bandi per più di 3 milioni di euro in tre anni e fanno la differenza questi perché i bandi di ricerca sono quelli che permettono di far avanzare sicuramente la ricerca quindi i risultati in termini di guarigioni e di cura dei bambini Città della Speranza è un istituto molto grande che esiste da tantissimi anni che è stato fondato con grandi intenti e ha fatto tanto nel tempo ma non vuol dire che perché l'istituto è grande è già una realtà stabilizzata non abbia bisogno del continuo sostegno Allora ad oggi qui all'interno abbiamo 200 ricercatori più di 200 solo per l'ambito pediatrico quindi un insieme di persone anche più importante che fa la differenza proprio nella ricerca è la quantità anche di raccolta che si fa perché la ricerca ha un costo importante ma dà anche risultati importanti quindi a pensare a tantissime direi in particolare aziende, donatori che fa un proprio gruppo per implementare ulteriormente sicuramente ci fa da una parte avvicinare almeno per alcune patologie a quel 100% di guarigioni che sogniamo e dall'altra pensiamo che stiamo investendo anche sul futuro dei giovani stiamo trattenendo in Italia ricercatori che un tempo non avrebbero avuto un futuro noi li stiamo trattenendo o riportando in Italia questa è anche la differenza dell'impegno che ci siamo presi come fondazione Città della Speranza quindi Città della Speranza è tante cose in questo momento mi piace questo discorso qua perché la ricerca si può fare anche in Italia se c'è l'istituto giusto e si può evolvere si può avere un peso internazionale come ricercatori come abbiamo visto anche nelle altre interviste fatte oggi a livello internazionale abbiamo fatto delle iniziative insieme tra cui la carica dei 101 per la speranza con l'arma dei carabinieri e con il centro sportivo dei carabinieri che hanno simulato la partenza insomma della staffetta come se fossero dei campioni genetici raccolti nelle diverse città d'Italia a confluire qui alla Città della Speranza è un'iniziativa che ha dato buona visibilità di cui siete stati soddisfatti? assolutamente perché ci ha fatto conoscere noi cerchiamo di non investire tra virgolette in pubblicità il nostro investimento è quello di far conoscere che noi esistiamo, far conoscere la realtà su questo ringraziamo sempre l'arma dei carabinieri le aziende che ci hanno permesso anche in quell'occasione di raccogliere fondi per sostenere tre ricercatori per un anno e questo sicuramente fa la differenza ma soprattutto di toccare tanti territori che appunto sono venuti a conoscenza di questa realtà e che sono diventati diciamo amici della fondazione sostenitori la sensibilizzazione arriva non solo agli adulti e alle aziende donatrici ma anche alle scuole abbiamo lanciato un bellissimo progetto adotta un ricercatore dedicato alle scuole medie e superiori perché il nostro impegno è anche di formare i giovani per il futuro proprio per sensibilizzarli da una parte al mondo del volontariato e dall'altra parte al fatto di far conoscere che c'è una realtà che magari un giorno gli dà anche un'opportunità di lavoro perché pensiamo che questi giovani adesso stanno frequentando delle scuole ma magari un giorno sceglieranno anche il mondo della ricerca proprio magari per essere più vicini anche loro a tanti bambini che hanno bisogno della ricerca per avere un futuro Stefania una cosa importante noi ci conosciamo, collaboriamo eccetera eccetera ci sono delle persone che ci stanno guardando come possono loro essere utili come possono loro entrare in squadra a dare il loro piccolo o grande contributo al benessere dei bambini del futuro ma soprattutto entrare nell'ordine delle idee che Città della Speranza non è nostra Città della Speranza è veramente un patrimonio del nostro territorio questo significa che se tutti doniamo poco, anche poco ma la raccolta fondi insieme diventa una cosa importante quindi c'è adesso la possibilità col 5 per 1000 pensate che col 5 per 1000 noi raccogliamo più di 2 milioni di euro che significa investire poi nei nostri ricercatori all'interno ci sono le iniziative Natale, Pasqua ma qualsiasi donazione che può far veramente quella differenza perché si chiama donazione ma noi lo definiamo investimento è un investimento per la ricerca ma è un investimento per la vita e per il futuro di tanti bambini Stefania, grazie per tutto quello che fai grazie per l'impegno che ci metti grazie a tutti non è la prima volta che vengo qui non è la prima volta che sento questi dati non è una prima volta che vivo questa emozione ma ancora mi toccano il cuore e se anche voi volete fare la differenza se anche voi volete essere d'aiuto come ho scelto di farlo anch'io con la mia azienda lo potete fare anche voi da piccoli a grandi importi secondo le indicazioni che ci ha dato Stefania in foca esatto potete anche voi aiutare abbiamo sostenuto diversi progetti della Città della Speranza e in particolare due di cui siamo molto orgogliosi il primo è questo appunto nel 2022 facciamo correre i campioni assieme all'arma dei carabinieri assieme al corpo sportivo dell'arma dei carabinieri e nel 2023 la carica dei 101 per la ricerca un progetto molto simile a quello del 2022 sempre che ha visto noi ed altre aziende come sponsor e anche l'arma dei carabinieri il gruppo sportivo con i corridori in maratonetti dell'arma dei carabinieri con un messaggio molto importante è stato un viaggio simbolico una corsa simbolica fatta con la staffetta con il testimone che simboleggiava il campione genetico o comunque il campione di cellule da analizzare perché? perché da tutte le città d'Italia ogni giorno partono campioni da analizzare che vengono portati qui alla Città della Speranza e in questo evento si è simulato proprio questo si è voluto fare una staffetta che andasse ad attraversare tutte le città d'Italia che mandano i campioni alla Città della Speranza fino a confluire in un unico grande evento proprio qui a Padova la stessa cosa per l'anno successivo il 2023 in cui si è fatto un evento molto simile più concentrato nel nord Italia sono stato un simbolo molto importante per noi per la Città della Speranza per l'arma dei carabinieri e per tutte le altre aziende che hanno partecipato a questo evento comunque due eventi che sono serviti per andare in ogni città a portare questa sensibilità a parlare di questi temi e a sensibilizzare aziende la popolazione e le amministrazioni sull'importanza di quello che si fa qui tutti i giorni ogni volta che vedete questo simbolino della Città della Speranza in un'iniziativa ogni volta che ne sentite parlare ricordatevi di questo ricordatevi che ci sono dei bambini e delle famiglie meno fortunate di noi che hanno bisogno di aiuto e questo aiuto che viene generato oggi non vale solo per chi oggi ne ha bisogno ma per tutte le generazioni future Città della Speranza ha dimostrato in 30 anni di fare veramente la differenza per aiutare i bambini per creare posti di lavoro per creare qualità della ricerca è veramente un centro di riferimento importante io continuerò a sostenerlo e vi invito a fare lo stesso ci vediamo alla prossima puntata grazie